buongiorno e ben ritrovati a tutti voi telespettatori di fano tv su sintonizzate sul canale 17 come tutte le mattine per ascoltare la rassegna stampa dare un'occhiata ai giornali che tra poco faremo con il touchscreen il carlino e il corriere c'è qualche novità sul tempo la vedremo tra poco vediamo il santo di oggi il santo di oggi è la beata vergine maria ausiliatrice il sole sorto alle 5 e 33 e tremonterà alle 20 e 37 allora il cielo per oggi sarà inizialmente nuvoloso avremo un ingresso di nuvole temporalesche dal mare dalla tarda serata e avremo temporali anche di forte intensità durante questa notte quindi attenzione intanto la mattinata vabbè trascorrerà così comincerà a peggiorare nell'entroterra nelle zone collinari nelle zone montane poi come dicevo stanotte avremo rovescio temporale diffuso lungo la costa anche di forte intensità le temperature sono stazionarie o in lieve aumento in particolare nei valori minimi allora per la giornata di domani invece giovedì 25 maggio ancora nelle prime ore della mattinata di domani avremo rovescio temporali anche di forte intensità sempre lungo la fascia costiera poi questi temporali andranno ad esaurirsi nel corso della mattinata di domani prima dalla provincia pesarese poi via via nel resto della regione il pomeriggio tornerà non ci saranno precipitazioni probabilmente tornerà appunto il il sole le temperature sono in diminuzione per la giornata di venerdì ecco il tempo bello su tutta la costa un po di nuvole invece nell'entroterra le temperature sono ancora in diminuzione nei valori minimi ma sono in aumento invece nei valori nei valori massimi il tempo stabile sarà garantito per tutto il fine settimana allora cominciamo dal resto del carlino questa mattina la pagina di fano il titolo è cani da caccia al parco urbano per il no si scomoda il presidente della repubblica mattarella il quale presidente ha annullato una delibera esulta comunale ed esultano gli ambientalisti dunque il comune di fano ha affidato 22 dei 33 ettari del futuro parco urbano a ridosso del campo d'aviazione alle associazioni venatorie per l'addestramento di alcuni cani da caccia ma il presidente della repubblica su parere favorevole del consiglio di stato annulla questa delibera di giunta del 2016 il consiglio di stato vieta anche al comune di emanare un nuovo provvedimento con gli stessi vizi di quello annullato e naturalmente le associazioni ambientaliste esultano ma l'assessore cecchetelli non molla lossa e dice ripresenteremo un altro atto la pagina invece di pesaro del resto del carlino è dedicata alla cronaca tentano di rubare le auto di darelli di graziano rossi che è il papà di valentino rossi il campione di motociclismo banda di malviventi ha cercato di forzare il deposito non ci sono riusciti e quindi furti sono andati avanti in altri stabilimenti tutta la zona via mario ricci è stata battuta dai ladri che però hanno e sono riusciti a dare a fare soltanto 3000 euro il ponte il ponte che è stato chiuso perché sono caduti dei calcinacci adesso viene fuori che quel ponte non è di nessuno non è della società autostrade l'anas dice non è il nostro insomma non si il comune dice per carità non è il nostro insomma di chi è questo ponte non si sa intanto per fortuna è stato riaperto il casello secondo anas però il ponte del comune loro dice a noi però non ci risulta invece l'altra notizia che troverete sulla pagina 14 del carlino di fano è che riguarda una donna di 30 anni di lucrezia di cartoceto ieri intorno a mezzogiorno e 20 stava viaggiando con la figlioletta sulla superstrada fanno bellocchi in direzione monte ha avuto un problema la macchina insomma con il caldo che faceva la giovane mamma con la sua piccola è stata soccorsa dai dagli agenti dalla polizia stradale e quindi ha evitato di rimanere nella calicola insomma di stare al caldo soprattutto con la figlioletta di un anno allora sullo studio sullo studio e sulla ricerca in particolare sulline sulla mappatura ambientale a bellocchi di fano oggi interviene samuele mascarin l'assessore ieri la profil gas ha detto noi pagheremo lo studio per capire chi è che inquina lì a bellocchi e però oggi mascarin dice no 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 fermi tutti lo studio lo paghiamo noi i soldi li troviamo noi l'inquinamento e la mappatura ambientale a bellocchi la facciamo noi del comune perché direte voi perché l'assessore dice è necessario garantire l'indipendenza delle ricerche insomma visto che profil gas potrebbe essere interessata insomma a questa ricerca potrebbe insomma noi abbiamo bisogno che sia una ricerca super partes come dire no che non ci siano che non ci sia nessun tipo di tra virgolette inquinamento passatevi tanto per rimanere in tema invece danni ai cingheali sulla pagina di urbino ora indaga la procura c'è questa fotografia di questo signore con la barba che sembra il nono di aidi ma in realtà è busetto conosciutissimo perché è un è un allevatore agricoltore insomma è un personaggio molto conosciuto è stato andrea busetto ha presentato un esposto e lui dice si violano tante leggi ora però basta io mi chiedo dice ancora busetto perché gli amministratori che sanno perfettamente dei danni fatti dai cinghiali non emettono un'ordinanza di abbattimento visto la situazione di emergenza e dice ancora lui io sono arrivato a sperare in qualche incidente mortale così che qualcuno si muova è brutto da dire però purtroppo in italia funziona così santa veronica santa veronica giuliani una santa del nostro territorio santa famosissima una santa straordinaria che è nata a mercatello sul metauro e poi è morta a città di castello il 7 di luglio del 1727 ebbene santa veronica sarà patrona degli schermidori cioè quelli che giocano quelli che scusate quelli che praticano lo sport dell'arte del della scherma in italia è arrivato questo decreto pontificio inviato dal cardinale prefetto della congregazione per il culto divino e dei sacramenti a nome di papa francesco che conferma ufficialmente dunque che santa veronica giuliani sarà patrona presso dio degli sportivi dell'arte della scherma in italia il corriere adriatico invece in apertura ha la notizia che ci sono meno furti meno crimini in casa meno furti in casa in netto calo queste sono questi sono dati che trovano riscontro soprattutto se prendiamo il periodo compreso tra il primo maggio 2016 e il 30 aprile 2017 ebbene cosa dice questo 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 dato che ci sono stati 1160 furti in meno registrati nella provincia di pesero e urbino in questo in questo periodo rispetto naturalmente allo stesso intervallo di tempo dell'anno scorso dell'anno precedente un dato che ha fornito la prefettura pesarese che conferma una progressiva riduzione dei reati a centro pagina invece a causa delle meno delle entrate minori da parte del governo la provincia pesarese ha un buco nei conti e adesso si prepara sforbiciare addirittura gli stipendi ci sono due pagine la pagina 2 la pagina 3 noi leggiamo la pagina 2 il titolo provincia sull'orlo del baratro adesso si tagliano gli stipendi meno 17 milioni dal governo e meno 4 milioni dalla regione marche a rischio i servizi per le scuole e per le strade da urbino la febbre del venerdì sera urbino riaccende le notti estive ripartono gli appuntamenti di serate ducali esordio con la sfilata di moda in piazza poi gli aperitivi concerti e tante altre iniziative a fano invece tornato agibile il casello della 14 ma il cavalcavia rimane interdetto la decisione dopo la verifica notturna scrupoloso sopra luogo per quattro ore durante la notte allora va detto che il cavalcavia resta interdetto che è una strada come diceva ieri nel nostro telegiornale l'assessore cristian fadesi è una via secondaria una via che però insomma viene utilizzata pochi poco però ecco quella strada lì è chiusa quella lì rimane chiusa mentre sotto ci si può comunque passare all'aeroporto la questione dell'aeroporto ecco la verità della riunione sul bilancio lorenzo furlani ha ricevuto un file con l'audio di questa riunione incriminata nella quale gialluca santorelli l'ex presidente dell'associazione fano fortune che gestisce l'aeroporto affermato di aver subito in quella riunione indebite pressioni perché modificasse i dati di bilancio ebbene il collega furlani ha ascoltato perfettamente in maniera attenta tutto quello che è successo e quello che si sono detti in questa riunione ha ascoltato questo file audio e che è arrivato da una fonte anonima scrive lui e quindi qui c'è il resoconto di quello che che c'è in questo file audio file audio che però non è stato dato alla guardia di finanza dalla valle del cesano sulla rocca sventola anche la bandiera gialla è un premio che viene assegnato al comune di mondavio per il turismo del movimento perché perché la città di mondavio è accogliente con i camperisti e il sindaco dice stiamo lavorando praticamente su tutti i target la consegna di questa bandiera il 16 dicembre alla fiera di parma grazie per la vostra politica dicono quelli che probabilmente gli hanno assegnato a pesaro invece c'è un problema con il foglio il fiume che ha creato un tappo alla foce ma adesso lo stanno liberando vedete la ruspa l'escavatore in azione liberate le barche iniziati gli interventi alla foce salvata la stagione per 800 natanti chiudiamo con la cronaca da senigallia la fotonotizia intanto vedete l'alga rossa che sta facendo la sua comparsa un po su tutto il litorale adriatico ieri vi abbiamo mostrato una video segnalazione di una nostra telespettatrice che oltre all'alga rossa faceva vedere anche a me un topo galleggiante sulla spiaggia sulla battigia questa se volete la replica c'è alle 13 e 40 circa forse anche le 11 ma tra poco ci sarà il papa che incontra il presidente degli stati uniti trump quindi chi ci segue in diretta che ore sono sono le 7 e 43 adesso fra una mezz'oretta daremo la linea al centro televisivo vaticano per seguire trump che andrà in visita dal papa poi c'è l'udienza generale del mercoledì mattina come di consueto in piazza san pietro quindi al termine di questo appuntamento lunga diretta con il centro televisivo vaticano ci sarà la replica anche del nostro telegiornale e nella replica vedrete in fondo al tg anche la nostra la segnalazione di questa nostra telespettatrice non è un non è inquinante l'alga rossa non è un problema è inquietante perché ha questa colorazione rossa e quando pensiamo al rosso vediamo il rosso pensiamo al sangue pensiamo comunque a qualcosa di brutto mentre la notizia per fortuna lieto fine cade dallo scivolo paura per un bambino il piccolo di un anno ha perso l'equilibrio e abbattuto la testa è stato portato al salese in ambulanza e nell'ambulanza anzi sottoposto ai controlli dai medici hanno escluso danni trattenuto però in osservazione per precauzione e quindi è rimasto ferito ieri pomeriggio nei giardini di piazza amalfia marzocca dopo aver battuto la testa e la mamma era in compagnia con i nonni insomma stava giocando sullo scivolo è arrivato alla fine e poi ha sbattuto ha sbattuto la testa però per fortuna tutto si è risolto per il meglio allora vi abbiamo già detto la diretta tra poco il numero di telefono 338 49 68 250 come sempre a vostra disposizione per le segnalazioni io mi fermo qui vi do appuntamento a questa sera alle 20 e 30 per il telegiornale occhio alla notizia a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti